ciao amici oggi andiamo dal demolitore a prendere i bottoni gli alzavetri per trasformare il nostro birri in un furgone con gli alzavetri elettrici devi specificare cos'è? il birri è il nostro camper qui c'è il nostro aiutante albertino poi ciao alberto ciao albertino perfetto ciao Här ciao ciao Gira, eh eh un cosimo, adesso te dirai come cacchio fai, eh non ci fai, tolgo l'orologio intanto Allora amici, ho collegato tutti i cavlaggi dei due motori insieme alla batteria E funziona tutto, adesso questo qua, funziona quello lì E l'altro fa funzionare questo Ma anche l'altro alza vetro Va giù e su Quindi ce l'abbiamo fatta Manca solo il montaggio e poi siamo a posto Allora, mi metto la strada come un babbeo Allora, però ho fatto l'impianto, adesso ho improntato, però funziona E questo qua E questo qua E questo Ce l'ho fatta, il collegamento è fatto Adesso devo chiudere tutto C'è da piangere, qua c'è da piangere C'è da piangere, qua c'è da piangere C'è da piangere